buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con i giornali in edicola la nostra rassegna stampa scorriamo insieme ai titoli di oggi giovedì 19 settembre in primo piano ancora una volta i fronti di guerra sempre più calda la situazione in medio oriente dopo le esplosioni prima dei cerca persone ora dei walkie talkie che fanno promettere a Hezbollah una sanguinosa vendetta ma situazione caldissima anche in Ucraina con Zelensky che prova a portare l'incubo della guerra nel cuore della Russia attraverso i droni ma in Italia invece tengono banco i temi di economia con la transizione ecologica al centro della discussione tra la Premier e Confindustria andiamo subito sul Corriere della Sera che titola altri scoppi polveriera Libano dopo i cerca persone esplodono i walkie talkie almeno 20 morti Hezbollah parla di vendetta l'Iran Israele pagherà mentre l'IDF che sono le truppe israeliane sposta le truppe da sud verso il nord proprio al confine con il Libano Blinken il segretario di Stato americano che dice gli Stati Uniti non sono coinvolti e arrivano anche le condanne di Mosca e Ancara leggiamo dopo quelle dei cerca persone ieri nuove esplosioni in tutto il Libano questa volta a scoppiare sono stati i walkie talkie usati da Hezbollah il bilancio parla di 14 morti e circa 500 feriti dietro l'azione c'è sempre l'ombra dei servizi segreti israeliani capaci di sorprendere ancora Hezbollah che giura vendetta sarà sanguinosa mentre Gallant parla di nuova fase del conflitto l'IDF è esposta le truppe verso nord gli Stati Uniti noi non siamo coinvolti e la condanna di Mosca e Ancara e a proposito di Mosca Kiev attacca in Russia raid con 100 droni nel mirino un deposito di missili non potendo usare i missili occidentali l'Ucraina ha colpito la Russia in profondità con i droni distrutto un arsenale si parla anche di Europa il metodo Ursula titola il Corriere della Sera che mette insieme anche i primi passi di Raffaele Fitto il neocommissario vede il commissario uscente Gentiloni Ursula von der Leyen non ha perso tempo dopo l'annuncio a Strasburgo della sua nuova squadra la presidente della Commissione europea ha convocato ieri a Bruxelles tutti i commissari designati il Parlamento attende l'organigramma preciso per stabilire poi chi assegnare alle diverse commissioni von der Leyen ha parlato di strutture più snelle più interattive interconnesse i primi passi di Fitto che ha visto Gentiloni e poi i temi come detto di economia in Italia ambiente e pil meloni l'asse con gli industriali l'intervento all'assemblea degli industriali con la promessa di correggere il green deal magari con il rinvio dello stop ai motori diesel e benzina e poi Meloni ha incontrato Mario Draghi a Palazzo Chigi intanto negli Stati Uniti la Federal Reserve fa una mossa a sorpresa i tassi giù dello 0,50% e il primo taglio dal 2020 leggiamo Giuliana Ferraino la Fed taglia i tassi di interesse di mezzo punto per la casa per la banca centrale americana e la prima riduzione del costo del danaro dal 2020 previsto un calo di un altro mezzo punto entro la fine dell'anno e poi c'è la cronaca giallo di matacena è sparito il patrimonio la moglie e l'ombra del delitto al giallo della morte di matacena e della madre si aggiunge quello del patrimonio di famiglia svanito come i due milioni incassati in banca a Monte Carlo a centropagina vedete l'addio a Totò Schillaci bomber azzurro delle notti magiche era malato da tempo Baggio io e te fratelli per sempre Salvatore Schillaci Totò l'eroe in maglia azzurra delle notti magiche d'Italia 90 se ne è andato a lui bastò solo una di quelle notti per diventare campione aveva 59 anni era malato da tempo all'inizio di settembre il ricovero a Palermo due interventi ora l'addio e ci spostiamo su Repubblica che invece titola Libano sull'orlo della guerra nuovi attacchi agli esbolla esplosioni sincronizzate di walkie toky pannelli solari e tv causano 20 morti e 500 feriti in due giorni più di 4.000 persone colpite i miliziani rispondono la vendetta sarà sanguinosa israele schiera le truppe al confine nord intanto in Ucraina i droni ucraini distruggono il più grande deposito di armi di Putin leggiamo gli scacchi sono una guerra diceva il grande campione americano bobby fisher con l'obiettivo di distruggere la mente dell'avversario ebbene l'odierno conflitto in medio oriente somiglia sempre di più una partita a scacchi l'iran il paese dove secondo alcuni è stato inventato questo gioco l'ha iniziata con una mossa abile e ancora la federal reserve tassi giù dello 0,5 per cento primo taglio dal 2020 mentre per la politica meloni attacca il green deal disgelo con draghi leggiamo non poteva giocare carta più facile giorgia meloni depotenziare il green deal rallentare la transizione verde ecco la carta facile perché contro il green deal tanto quanto contro gli immigrati la destra europea al grido di parole d'ordine come la difesa delle auto e della casa costruisce un pezzo importante della sua narrazione e una parte sensibile del suo consenso costringendo i partiti moderati a inseguire e poi si parla anche della nuova legge dai sit in alla cannabis light sicurezza stretta sui diritti torna la castrazione chimica si dice su repubblica 24 nuovi reati aggravanti e rispunta la castrazione chimica dopo quasi un anno di disgelo la legge sicurezza è stata approvata dall'aula della camera con 162 voti a favore 91 contrari e 3 astenuti e adesso passa all'esame del senato il pugno duro e sui danneggiamenti a infrastrutture contro in ottava fino a 27 anni di reclusione ma anche la resistenza pubblico ufficiale prevede ora fino a 16 anni sulla castrazione una commissione potrà valutare la possibilità per i condannati per violenza sessuale di aderire con il consenso a percorsi di assistenza anche con eventuale trattamento di blocco androgenico e poi a centropagina questa fotografia di totò schillaci che festeggia un gol nella partita con l'uruguay il ragazzo del sud che salì in vetta addio totò eroe eroe di notti magiche era tutt'occhi e quanta tenerezza in quella ferocia quanta sapienza del corpo degli istinti nella tumultuosa esistenza in quell'apparente semplicità di schema salvatore schillaci era nato povero e non ha mai fatto pazzie e per abbandonare una marginalità che pure lo aveva condotto al centro del mondo e ci spostiamo sulla stampa il quotidiano di torino che titola l'iran attacchi in libano israele pagherà dopo i cerca persone esplodono anche i pannelli solari vertice di emergenza parigi escalation più vicina e poi ancora c'è un'intervista a bernard henry levy perdere sarebbe peggio dell'olocausto scrive francesca paci ma il titolo principale riguarda l'incontro tra meloni e confindustria stop al green deal il presidente di confindustria orsini il taglio delle emissioni mette a rischio l'industria l'europa cambi le regole e poi la premier vede draghi chiesto l'appoggio sulla proroga della transizione ecologica e del piano nazionale di ripresa e resilienza se l'europa deve cambiare marcia anche l'italia è chiamata nuove sciolte coraggiose il messaggio del presidente di confindustria emanuele orsini alla sua prima assemblea annuale e il no al green deal trova la sponda della presidente del consiglio giorgia meloni che dice sono d'accordo poi vedete a centropagina quegli occhi magici addio toto schillaci e ci spostiamo sul sole 24 ore il giornale di confindustria che ci porta sui temi di economia e in particolare proprio sull'incontro con la premier orsini servono scelte coraggiose e meloni risponde noi ci siamo lavoriamo insieme un'europa che deve cambiare marcia e l'italia che deve realizzare nuove scelte coraggiose emanuele orsini presidente di confindustria ha tracciato ieri nella sua prima assemblea pubblica da presidente di confindustria difficoltà e prospettive dell'industria e del paese indicando tre direttrici competitività produttività comunità la manovra di bilancio è alle porte tra le priorità un taglio al cuneo fiscale permanente troppi errori nel green deal europeo che va cambiato e no allo stop dei motori endotermici al 2035 nel suo intervento la premier giorgia meloni ha sottolineato la sintonia e la disponibilità al confronto con le imprese a partire dalla legge di bilancio e intanto la federal reserve americana taglia i tassi di 50 punti base con paul che dice l'economia ora è solida la federal reserve ha scelto l'opzione più alta e ha tagliato i tassi di interesse americani di 50 punti base la prima volta dal 2020 l'economia americana è solida rassicurato il presidente jeremy power scacciando i dimori di recessione intanto la premier italiana dice cambieremo il green deal europeo va evitata la deindustrializzazione questo l'impegno del governo che appunto è impegnato per correggere le scelte europee sul green deal la sfida della transizione ecologica non può voler dire smantellare interi segmenti industriali lo ha detto la premier proprio all'assemblea di confindustria e intanto per l'ex silva ci sono 13 proposte solo tre per tutta l'azienda si parla di siderurgia domani a mezzanotte si chiudono i termini del primo step delle procedure di gara lanciata a fine luglio per rilevare l'ex ilva ai nastri di partenza tra le 13 proposte ci sono gli ucraini di metinvest dell'oligarca atmekov gli indiani di vulcan green steel insieme ai loro connazionali di steel mount e i canadesi di stelco questi tre gruppi sarebbero interessati a tutta l'ex ilva oggi acciaierie d'italia e ci spostiamo sulla gazzetta del mezzogiorno il primo dei due giornali di puglia e basilicata il titolo è sul pompiere eroe il vigile del fuoco che ha perso la vita nel foggiano travolto dal fango dopo aver salvato alcuni automobilisti e c'è anche la vicenda dell'ex ilva e gli effetti perversi delle privatizzazioni ancora infermieri e un medico aggrediti questa volta galatina omicidio della psichiatra labriola bari chiesta la conferma delle condanne l'italia piange totò schillaci goleador delle notti magiche il ricordo di matarrese abbiamo sognato insieme e ancora la politica pugliese puglia maggioranza in tilt fra giunta e def r i cinque stelle più vicini al ritorno in giunta regionale di emiliano ma ora spinta spuntano le ambizioni di azione dopo il sì di calenda all'ash line c'è anche il ricordo di monsignor fonseca 70 anni fa la consacrazione al sacerdozio di un militante della cultura nato a massafra e ci spostiamo sull'edicola del sud dell'altro giornale di puglia basilicata che parla ancora del vigile del fuoco eroe prima il salvataggio poi la tragedia antonio muore travolto dal fango il dramma nel foggiano cicorelli 60 anni presta soccorso a due donne e viene trascinato dal torrente per lui messaggi di cordoglio da tutta italia anche dal capo dello stato intanto a bari ranieri e il nuovo presidente del consiglio ma bronzini bacchetta il sindaco leccese il partito democratico tensione in aula ancora per il def doppio stop in commissione in regione puglia il documento di economia e finanza ci spostiamo sul resto del carlino giornale del gruppo quotidiano nazionale che nella sua edizione appunto nazionale titola governo industriali l'asse della crescita la prima volta di orsini servono scelte coraggiose produttività sicurezza sul lavoro e lotta alla burocrazia le nostre priorità ha detto la premier meloni accoglie gli appelli e rilancia cambieremo il green deal europeo summit del premier con draghi spunta spunti importanti nei suoi report e poi c'è quest'altra emergenza maltempo che sta colpendo l'italia centrale in particolare l'emilia romagna torna l'incubo alluvione e sonda nei fiumi e famiglie evacuate in emilia romagna sott'acqua il paese del forlivese scuole chiuse anche nelle marche dal medio oriente invece ora esplodono i walkie talkie beirut a tel aviv sarà vendetta la spirale israele e sbolla e ci spostiamo sui giornali del gruppo la provincia questa è sondrio passaggio a livello da incubo blocchi e treni in ritardo due guasti in 12 ore al trippi di sondrio auto in colonna e coinvogli fermi intanto c'è anche una tragedia sopra isola di madesimo cercatore di funghi precipita e muore ci spostiamo all'ecco dove si legge questa notizia di cronaca travolto sulle strisce grave un anziano di colico mentre cade mentre cerca funghi la vittima è di missaglia cesare doni 76 anni ha perso la vita nei boschi di isola di madesimo ne abbiamo parlato qualche secondo fa e ci spostiamo a como sempre sulla provincia bonus dell'edilizia maxi truffa da 36 milioni di euro cinque arresti e due non eseguiti per una coppia alle maurizios leggiamo perché questa è una vicenda che riguarda un po tutta italia la coastal road di mare bu nella zona sud orientale dei maurizios è una breve strada affascinante con il mare cristallino da un lato e un'area verde dominata da un meraviglioso storico baobab dall'altro e in una di queste dimore da sogno che abitano livio motta di 60 anni il prossimo ottobre e la moglie patrizia galli 56 anni da ieri mattina dovrebbero essere chiusi in un carcere italiano non fossero ormai stabilmente residenti in uno dei paradisi fiscali la coppia motta galli secondo l'accusa avrebbe fatto parte di una maxi truffa da 36 milioni di euro approfittando degli eco bonus edilizi ai danni delle casse dello stato italiano e ci spostiamo a bergamo sull'eco che titola meccanica orobica in rosso il calo della germania pesa crollo dei mezzi di trasporto meno 11,6 per cento male anche i macchinari meno 6,6 per cento e ci spostiamo sull'avvenire il giornale dei vescovi italiani che si occupa ovviamente in apertura di quel che avviene in libano beirut nel terrore secondo attacco israeliano fatti esplodere walkie talkie pannelli solari altri morti e feriti l'onu condanna l'uso di oggetti civili come armi e finisca l'occupazione dei territori e sbollagri da vendetta ma il colpo subito è durissimo il ministro della difesa israeliano gallant inizia una nuova fase del conflitto sono 20 le vittime e più di 500 i colpiti nella nuova catena di esplosioni che ha riguardato migliaia di apparecchi azzerando le comunicazioni di esbolla le cariche erano nascoste nelle batterie acquistate dall'organizzazione due settimane fa gallant annuncia inizia una nuova fase del conflitto il monito di netanyahu se ho sempre detto che avrei fatto tornare a casa i profughi del nord il libano è sotto shock le strutture sanitarie sono state sottoposte ad uno sforzo senza precedenti si cercano medici soprattutto oculisti caos e fuggi fuggi anche i funerali dei miliziani uccisi nella prima ondata di attentati il gruppo sciita minaccia vendetta sanguinosa e unica oggi parla il leader nasherallah teheran condanna il terrorismo sionista e a centro pagina vediamo invece un'altra vicenda quella italiana della politica meloni ottimista cresciamo gli industriali dicono no al green deal la premier vede draghi e concorda sul freno alla transizione ecologica il futuro a guardarlo da palazzo chigi dove poi riceve mario draghi appare roseo sono fiduciosa si può fare qualcosa di meglio rispetto alle previsioni della commissione europea dice la premier all'assemblea di confindustria ritenendo che il più 1 per cento del pil sia a portata di mano soprattutto dopo i primi due trimestri molte le aperture agli industriali anche sul green deal europeo che il neopresidente orsini chiede di rivedere con decisione e pieno di errori che mettono a rischio l'industria dice mentre stiamo regalando alla cina il nostro mercato dell'auto a centro pagina vedete anche questa fotografia l'allarme i principi attivi fuori controllo droghe più pesanti sos dipendenze l'ultimo decennio racconta del costume del costante e significativo aumento del principio attivo e della purezza delle sostanze e i dati della relazione annuale del dipartimento delle politiche antidroga dello scorso giugno lo confermano nel 2023 il principio attivo contenuto in una singola dose di marijuana tanto per fare un esempio si è attestato al 14 per cento contro il 9 per cento del 2015 risultato crescono a dismisura anche i rischi per la salute di chi la droga la consuma e ci spostiamo sul messaggero il giornale della capitale che si occupa del green deal asse meloni imprese assemblea di confindustria il presidente orsini transizione verde autolesionistica la premier dice che va cambiata draghi a palazzucchigi e giorgia su natalità e debito europeo priorità condivise presto nuovi contatti a centropagina la fotografia che mostra l'esonero di de rossi un esonero senza alcun preavviso che arriva i rich tifosi in rivolta ma si parla anche del libano esplodono i volki toki radio e sbolla parla di vendetta ce ne siamo già occupati mentre l'emilia romagna paesi sott'acqua chiuse le scuole l'allerta alluvione e ci spostiamo sul mattino il quotidiano di napoli e del mezzogiorno sud locomotiva d'italia patto meloni orsini per cambiare il green deal troppi errori industria a rischio il premier all'assemblea di confindustria nel 2023 non più fanalino di coda ma traino del paese de luca il presidente della regione campania con il governo buoni rapporti orgogliosi dello sviluppo della campania e poi c'è anche l'abbraccio di napoli a chiara la turista morta con la statuetta lasciata cadere da un bimbo da un piano più alto e che ha colpito alla testa la ragazza la turista che poi è morta in ospedale melito aggrediti due medici è inaccettabile dice il presidente dell'ordine dei medici anelli subito un decreto e l'arresto di ferito volte e insulti un nuovo episodio si parla anche delle nuove esplosioni in libano l'ira di hezbollah su israele ce ne siamo occupati ampiamente e chiudiamo con il quotidiano del sud dell'altra voce dell'italia giornale della calabria che si occupa dei temi del mezzogiorno asse fra melone confindustria dal sud la spinta per far crescere il paese la relazione del neopresidente orsini all'assemblea presente pure la premier il numero uno degli imprenditori chiede una nuova politica industriale riforme per gli investimenti e la crescita il mezzogiorno motore produttivo del paese d'accordo la presidente del consiglio che difende l'autonomia e annuncia cambieremo il green deal e c'è anche il a centro pagina questo titolo de luca renzi la strana coppia che demolisce l'autonomia confronto a napoli fra il governatore e il leader di italia viva ne scrive michele in serra leggiamo un passaggio napoli diventa location di una bizzarra trovata politica matteo renzi e vincenzo de luca diventano per una mattinata la strana coppia che demolisce l'autonomia differenziata il governatore parla di truffa il leader di italia viva di spaccherà forza italia ed era questo l'ultimo argomento del quale ci siamo occupati nel corso di questa rassegna stampa che torna domani stessa ora stessa rete per il momento non andate via e restate con i nostri programmi grazie a tutti